Siamo con il sindaco di Asso, Maria Giulia Manzeni, e partiamo in questa intervista dal luglio 2009 dalla devastante, pesante alluvione che ha colpito Asso e il suo territorio comunale. L'amministrazione comunale si è adoperata dopo per alcuni interventi di recupero, di sistemazione e poi forse anche di prevenzione. Li vogliamo ricordare quali sono? Sì, grazie, grazie per questa opportunità che mi state dando. In effetti nel luglio scorso un alluvione, un vero e proprio nubifragio, tant'è vero che poi è stato dichiarato lo stato d'emergenza per questo territorio, quindi i danni sono stati anche ingenti, ha colpito soprattutto il paese di Asso. I danni sia per i privati che per le strutture pubbliche sono stati veramente ingenti e una domanda che tutti ci stiamo facendo è anche che cosa poi arriverà, se ci sarà un ristoro economico. Io questa domanda l'ho già posta in diversi tempi agli enti competenti, quindi alla regione piuttosto che agli enti competenti. Al momento non c'è risposta né per i privati e neanche per il pubblico. Stiamo a vedere, cerchiamo di capire che cosa succede. Certo che dopo l'alluvione ci siamo mossi tempestivamente segnalando tutti i danni, proprio tutti, a tutti gli enti competenti, prefetto, regione, provincia, comunità montana e devo ringraziare tutti gli enti che ci hanno aiutato anche soprattutto in quel momento, soprattutto parlo della protezione civile, della prefettura che ci è stata vicino, ci ha aiutato anche dopo il prefetto che è intervenuto, mi ha contattato per spiegarmi quali erano le leggi da vedere, da considerare. Per cui una grande sinergia e di questo ringrazio veramente tutti. Cosa abbiamo fatto subito? Abbiamo ottenuto dei finanziamenti, 100.000 euro, abbiamo subito messo in sicurezza le case rosa, la località case rosa, l'abitato di Scarena. Perché quell'intervento e quei soldi? Perché i tecnici che sono usciti del genere civile hanno ritenuto prioritario, secondo una scaletta di priorità e di sicurezza che doveva essere subito riportata, questo intervento. Per cui ci sono stati dati 100.000 euro e sono stati fatti tutti questi lavori che sono già finiti e ultimati in località appunto case rosa per mettere in sicurezza questa parte di abitato. Poi una vasca di decantazione in località Valle Scura al fine di fermare, di rallentare l'acqua che scende dalla Valle Scura e quindi evitare gli allagamenti sottostanti della via Lazzaretto, Castellit, eccetera. Anche qui abbiamo avuto questo finanziamento di circa 30.000 euro. Poi abbiamo cominciato a progettare e a ragionare sui singoli interventi che si dovevano poi ancora portare avanti. E uno di questi, molto importante, è appunto quello dell'Istituto Nino Levi. Diciamo che abbiamo fatto subito dei sopralluoghi immediatamente per mettere in sicurezza, in prima emergenza, in sicurezza la zona. Vorrei fare un passo indietro però, un po' di storia perché credo che sia indispensabile. Diciamo che nel 2000, con una legge del 2000, lo Stato in attuazione di questo federalismo, perché il federalismo oggi come sindaco posso dire che è questo, lo dico come sindaco, lo dico come istituzione. C'è una bella legge che ha messo sulle spalle dei sindaci e delle amministrazioni anche il reticolo minore e quindi anche questa roggia che scende dalla Valle Scura senza finanziamenti. Dobbiamo manutentarla, dobbiamo fare tutto quello che serve perché queste roggie non creino problemi, per metterle in sicurezza e non abbiamo un euro, non abbiamo personale e non abbiamo soldi. Oggi come sindaco dico il federalismo è questo. Ecco, questa situazione è molto complessa. Perché è molto complessa? Perché stiamo parlando di una proprietà privata, stiamo parlando dell'azienda ospedaliera, quindi di una proprietà in sostanza privata. Questa roggia entra in questa proprietà e passa sotto l'abitazione. Vorrei far presente che questa situazione è così da circa il 1929. Dal 1929 al 1930 sono stati fatti degli ampliamenti, la questione è stata congegnata in questo modo e abbiamo la proprietà tagliata da questa roggia. Fino ad oggi non è mai capitato niente. Credo che sia sotto gli occhi di tutti che il tempo si sia veramente modificato. Mi riferisco proprio al tempo meteorologico, atmosferico. Capitano ubifragi e alluvioni perché le piogge che cadono sono veramente torrenziali. Tant'è vero che fino ad oggi non c'è mai stato nessun tipo di problema. Ecco, appunto con l'alluvione del 17 luglio scorso c'è stato appunto qualche problema. E quindi siamo intervenuti inizialmente con una serie di sopralluoghi, con tecnici incaricati che ci hanno delineato e dato delle indicazioni per poter risolvere la questione. Io faccio presente questa cosa, cioè che c'è stata una grande sinergia e sintonia con l'azienda ospedaliera e anche con la società che gestisce la struttura. Proprio nel metterci tutti a tavolino a risolvere questa problematica che è complessa. E devo dire che, come dire, sono stupita che poi leggo sul giornale il comune di Asso deve da solo farsi carico di questo problema. Ma vi spiego semplicemente perché. Il sindaco si dà da fare per creare delle sinergie. Tutti insieme ci mettiamo a tavolino a studiare delle soluzioni che poi ci sono e vedremo. E la nostra minoranza, insieme a qualche altra persona, ci suggeriscono che dobbiamo fare da soli. È evidente che il progetto che poi andremo a illustrare porta un importo di 610 mila euro e che questo importo il comune non ce l'ha. E credo che si faccia esattamente non l'interesse della cittadinanza assese e dei cittadini di Asso se si tende ad isolare il comune, se si tende a chiedere che il comune si arrangi da solo. Io credo che quando un sindaco parte per fare degli accordi, per chiedere dei finanziamenti in regione, in provincia e da altre parti io credo che tutti, minoranza compresa, dovrebbero sostenere questa gira del sindaco. Perché diversamente vuol dire alzare le tasse, vuol dire che io uso soldi per fare altre cose. Allora, sindaco Manzeni, a quanto ho capito il progetto è pronto, è stato preparato, è stato steso a regola d'arte. Ma come sovente capita in questi tempi, mancano i soldi, e i soldi che mancano per realizzare il progetto nonostante le richieste di finanziamento che voi avete avanzato ad altri enti. Sì, assolutamente sì, il comune di Asso non ha a disposizione una cifra di 610 mila euro per poter sistemare definitivamente come si deve la situazione, questo non è un mistero. E tra l'altro, come dire, io leggo da qualche parte che si dice una questione di priorità prendiamo i soldi della rotonda e mettiamoli qua. Io credo che chi parla e chi dice queste cose veramente non ha la minima condizione di causa di come si amministri un paese. Ma perché? Innanzitutto perché io sono stupita del vedere dichiarazioni sul giornale di persone, minoranza compresa, che non sono mai saliti in comune a vedere il progetto, a chiedere com'è la situazione, ad accertarsi dei fatti. E trovo delle dichiarazioni sul giornale. Allora, io credo che sia abbastanza evidente che i 350 mila euro della rotonda non possono essere presi e messi da un'altra parte, soprattutto nella parte di finanziamenti che arrivano da altri enti. Io ho 51 mila euro della comunità montana, ho 100 mila euro della provincia, che non posso prendere e dirottare su un'altra opera. Anche quando la parte rimanente che potrebbe essere presa non servirebbe, perché esigua, a risolvere il problema interamente. Quindi io credo che prima di rilasciare delle dichiarazioni bisogna quantomeno per correttezza venire in comune e almeno guardare i progetti, almeno vedere che cosa l'amministrazione sta facendo e come si sta muovendo. Io credo che una cosa seria sia verificare i fatti, e questo lo dico anche a assessori di altri enti che rilasciano delle dichiarazioni. Io stimo Cinque Santi, però chiedo a lui, prima di rilasciare dichiarazioni, di venire a vedere come sono le cose. Perché è vero che è una roggia, un reticolo minore, la competenza comunale non c'è dubbio. Ma è anche vero che passa sotto un'abitazione privata tagliandola a metà. Quindi la situazione non è così semplice. E' certo che, come dicevo prima, l'amministrazione del sindaco si sta prodigando per, sulla base di questo progetto preciso, presentato, che risolve il problema, concertato con tutti gli enti e con la proprietà, sta cercando di trovare sinergie per andare a recuperare questi soldi. E allora vediamo il progetto. Ecco, qui abbiamo il progetto. Allora, questo è il parco dell'Istituto Nino Levi. E il problema si è creato esattamente qua. Quindi il progetto prevede... Ecco, io vi faccio notare questa linea blu, che è la roggia attuale, quella in uso dal 1929, che taglia esattamente il convalescenziario, non a metà, ma comunque lo oltrepassa. Per cui c'è questa roggia che passa sotto l'abitato. Un tubo molto piccolo che scende e poi va nell'ambro. Allora, il problema sta proprio qua. Per cui questo progetto, che prevede la sistemazione e la soluzione definitiva della problematica, prevede una vasca di raccolta delle acque che scendono e che defluiscono dalla Valle Scura. Tenendo presente che il progetto complessivo prevede anche degli interventi a monte. Quindi siamo partiti a monte con una pulizia di tutta la valle, che dovrà essere fatta. Io qui ringrazio la protezione civile, perché insieme a altri tecnici sono stati sulla Valle Scura una giornata intera per capire quali sono gli interventi per pulire questo torrente. E' una cosa molto complessa, perché non ci sono possibilità di appoggio degli alberi, dei sassi, di tutto quello che sarebbe da ripulire. E quindi è stato stimato un costo di quasi 30.000 euro per partire a ripulire la valle. Scendendo c'è questa vasca di decantazione che è stata già realizzata ed è quella che è stata realizzata con i finanziamenti che sono subito arrivati, che serve a ridurre la velocità dell'acqua, ma anche a raccogliere eventuali detriti che quindi non vanno ad ingombrare, a occludere la sottostante tombinatura e quindi garantiscono un non allagamento delle vie, come è successo con il nubifragio che abbiamo già citato. Quindi ripulita la valle, già fatta la vasca di decantazione, si arriva nella proprietà dell'azienda ospedaliera. L'intervento prevede una vasca di raccolta molto grande e importante e poi si abbandona questa roggia, questo canale che passa sotto l'abitazione, per creare un nuovo collegamento col fiume Lambro per circa 400 metri e corre parallelo. Quindi si capisce l'importanza di quest'opera, che deve essere fatta bene e anche del fatto che si dismette un intero tratto per costituirne un altro. Io vorrei farvi vedere anche il dettaglio, se mi permettete. Quindi siamo di fronte a un vero e proprio tracciato alternativo che cancella il vecchio alveo, se può essere usato questo termine, e ne indica, ne traccia uno nuovo. Ecco, qui si vede la sezione del progetto, del percorso alternativo. Ci sono dei gradoni, dei salti per rallentare la corsa dell'acqua e anche per far sì che i detriti si depositino e non occludano tutta la tubazione. Sono curati anche nei materiali per ridurre la velocità e è un'opera che, come si vede poi anche dal costo, molto importante. C'è tutto un declivio, quindi una serie di salti che sono discendenti e che servono poi a portare tutta l'acqua, che appunto quando piove, piove forte, diventa da venire un problema, fino all'ambro. Quindi, come vedete, il progetto è qui, è completo, è preciso, è stato condiviso, perché questa è una cosa importantissima, e io sono già andata presso diversi enti a fare richieste di finanziamento. Ripeto, mi stupisco che si dica, soprattutto da parte della minoranza, che il Comune si deve arrangiare da solo. Questo vuol dire penalizzare Asso, penalizzare i cittadini di Asso. Io credo che un sindaco che si impegna a risolvere un problema che è complesso, perché è oggettivamente complesso, debba essere sostenuto e non debba vedere sul giornale dichiarazioni dove si dice che devo arrangiarmi, perché questo vuol dire poi far pagare il tutto alla nostra collettività. Ecco, in merito alle priorità, prima si diceva che qualcuno sostiene che si potrebbero prendere i soldi della rotonda. Io ho già spiegato che questo vuol dire solo far polemica e non capire come si amministra. Però credo che sia veramente una questione di priorità. E certo che sono priorità diverse. Qui abbiamo un importo e un problema che viene risolto con cifre molto grandi. Là c'è un problema altrettanto importante. Io vorrei ricordare che la via, 25 aprile, è transitata da 20.000 macchine al giorno e c'è una signora sulla sedia a rotelle per aver attraversato le strisce pedonali. Quindi io mi chiedo se quella non è una priorità. Si parla tanto di sviluppo, di rilancio del commercio, di rilancio del paese. Ma come facciamo a rilanciare il paese fin tanto che per entrare ad asso in qualsiasi parte devo girare a sinistra, devo puntare la frizione, devo aspettare e sperare che qualcuno scendendo si fermi perché io possa entrare nel mio paese. È una questione di priorità. Anche la sicurezza che noi stiamo perseguendo con la rotonda è certamente una priorità. E mi auguro che nessuno, nessuno sia più investito sulle strisce pedonali. Perché poi non saprei proprio cosa dire. Per tornare invece a questo progetto, il progetto è pronto, anche nei particolari. Non vi sono intralci di qualsiasi tipo. Qualche volta quando si parla di un progetto vi sono attraversamenti di proprietà private che possono creare dei problemi. Nulla di tutto questo. Il progetto è pronto, potrebbe essere esecutivo nel giro di poco tempo, mancano i soldi. E questo è il nodo da superare. Tanto per tornare alla fase iniziale di queste dichiarazioni. Sì, la concertazione che abbiamo messo in atto, proprio perché stiamo lavorando su una proprietà privata con l'azienda ospedaliera e con i tecnici che sono stati veramente eccellenti nel darci supporto, nell'aiutarci, nel condividere con noi cosa fare sia della proprietà che dell'azienda ospedaliera, che ringrazio veramente. E sta proprio qui, sta nel fatto che dobbiamo operare su una proprietà privata e quindi al di là delle chiacchiere che si dicono sul giornale bisogna poi fare i fatti, bisogna trovare gli accordi, bisogna mettersi intorno a un tavolo trovare le soluzioni e poi evidentemente trovare anche i soldi. Questo è chiaro. Permettetemi di ringraziare il dottor Antonicelli, il direttore del presidio perché è intervenuto spiegando bene i fatti e sono veramente contenta e lo ringrazio che qualcuno ogni tanto abbia il coraggio di dire le cose come sono e di chiamare le cose col loro nome. Per cui io ringrazio Antonicelli con cui stiamo collaborando, abbiamo collaborato e con il quale andremo avanti nella sistemazione di questo problema.